salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi ce ne andiamo alle cascate delle marmore in solitaria cioè con una moto sola ma con il aria dietro che siamo tornati ieri da una mini vacanza e che fai oggi nella pia moto questa giornata è certo che la pia moto questa giornata ma non fa colazione da qualche parte e poi direzione cascate delle marmore siamo nelle zone di otricoli qua cominciano i curvoni belli no il trattore che era tu balle no poi c'è questo questo colostebbio che sta proprio in mezzo in mezzo cioè io va bene o male posso passare in qualsiasi momento lui un po di meno vabbè ma non è qui a usurparsi c'è questo video Sti curvoni sono spettacolari Sti curvoni sono spettacolari Ah ci fa passare qua da Calvi che è qui verso Terni e Narni Questa l'avevo fatta una volta ma mi ricordavo che era proprio figa sta strada Sì Infatti io volevo proprio fare questa oggi a venire qua Tè guarda che roba Abbiamo appena cominciato Ma che sono montagne russe queste Guarda che roba guarda 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 Andrea guarda cosa abbiamo preparato per te Riferito ovviamente a Andrea Bocelli Questa è brutta mi ricordo qua c'è stato un pezzo Faceva un curvone stretto ma non mi ricordo dove Qua mi fa girare per i tielli Però io mi ricordo di essere andato dritto Lui mi fa girare qua ma io Proseguo dritto Lui mi fa girare qua Qua c'è stato un curvone Qua c'è stato un curvone Questa volta a sinistra Questa volta a sinistra Sì Giro alle cascate della marmore concluso Veramente belle Mi sono piaciuto un sacco Tra l'altro sono le cascate più alte d'Europa Non lo sapevo sta cosa Un fresco che non vi dico perché con tutta quell'acqua praticamente vaporizzata Nebulizzata addosso è una goduria Quindi per queste giornate così calde è proprio l'abitat ideale Io come sempre ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale Attivare la campanellina Lasciare un like Un commento E se volete potete trovarmi su instagram Trovate il link in descrizione E su tonit come mario 90 Quindi se volete mi trovate anche in la ragazzi E la madonna Incidente Che troia Ehi Do che cazzo è nata questa Molta ci sua E di chi non glielo dice E di chi non glielo dice Ma sempre L'incontro